L'Aula approva a maggioranza la proposta di legge di iniziativa consigliare per favorire la circolazione dei crediti fiscali relativi al super bonus. 26 sì, PD, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle e un astenuto gruppo misto merito e lealtà. La Lega non ha partecipato al voto. Non possiamo accontentarci delle scelte attualmente fatte dal governo che noi ovviamente critichiamo e troviamo quasi offensive rispetto alle necessità reali della comunità toscana. Non c'è un euro per la Fano Grosseto, non c'è un euro per la Tirrenica. Ovviamente bene laddove sono arrivati i finanziamenti ma sono davvero briciole rispetto anche allo scenario nazionale. Con quest'atto abbiamo voluto richiamare l'attenzione del governo nazionale e chiediamo impegni precisi affinché questa situazione venga davvero cambiata perché così è assolutamente inaccettabile rispetto anche alle molte promesse che anche recentemente erano state fatte, faccio l'esempio della Tirrenica, e che non trovano assolutamente corrispondenza in questi atti del governo nazionale. Io penso che oggi sia stato dato un segnale estremamente importante da parte di tutta l'Aula. È stato fatto un lavoro condiviso su una proposta di legge che finalmente consente anche alla regione toscana attraverso le sue società partecipate, non tutte, di poter interloquire con il sistema bancario toscano e quindi farsi parte attiva nell'acquisto dei crediti derivanti dal super bonus. È stata una partita che si è giocata con estrema attenzione, con estremo equilibrio, tutto questo perché vi era la necessità condivisa, direi a questo punto lo possiamo certificare, di dare una risposta al settore, quello dell'edilizia, che davvero si è trovato in estrema difficoltà. Di fronte a un provvedimento che è quello comunque di intervenire su una misura che ha avuto effetti positivi da una parte sulla crescita del Paese, ma dall'altro ha determinato uno squilibrio sui conti pubblici estremamente importante. È chiaro che l'intervento a tutto sondo del governo in qualche maniera ha cercato di puntare al contenimento della spesa pubblica, però io credo che fosse importante oggi che l'ente regionale desse una sua risposta. Ci sono dei punti importanti nella legge perché oltre ad aprire questa possibilità, interloquendo con il sistema bancario, lo si fa con la garanzia da parte delle banche della solubilità del creditore, lo si fa garantendo la sostenibilità anche dal punto di vista dei conti della regione toscana, prevedendo un apposito fondo di garanzia nel caso in cui si rivelassero crediti cattivi, ma in realtà questa è una possibilità che viene sì contemplata, ma che è scongiurata dal fatto che si tratta di crediti certificate e attestati. Quindi sono crediti buoni e in questo modo cercheremo anche sotto questo punto di vista di creare l'effetto virtuoso di liberare anche quelle risorse che acquisendo in pancia i crediti possano poi rimettere liquidità a sostegno del sistema economico. Quindi io credo che oggi davvero anche come centrodestra voglio dire abbiamo dato un segnale importante per cui sui temi seri, concreti, siamo davvero capaci di esprimere anche delle scelte importanti e di proporci davvero in Toscana come forza di governo. La regione toscana con questa proposta di legge cerca di dare un contributo a ovviare ai gravi danni che questo governo ha fatto col blocco delle cessioni dei crediti, per una misura che fondamentalmente è stata una grande occasione per l'Italia per rivalutare e riamodernare il patrimonio edilizio, soprattutto quello privato, con un investimento di 71 miliardi di euro che ne ha riportati quasi 200 di investimenti di indotto, di lavoro, di PIL, ben 6 punti di PIL percentuale. Il grave problema dei crediti incagliati purtroppo non si potrà risolvere con il contributo piccolo che la regione potrà dare dal punto di vista economico ma è un segnale di rispetto verso tutte quelle famiglie che si sono trovate per il furore ideologico del governo Meloni a trovarsi con degli investimenti fatti e con l'impossibilità di poterli recuperare. Questo è il motivo per cui noi votiamo a favore e lo ricordiamo ancora, il super bonus edilizio è stata una misura che l'Unione Europea intende ancora esportare e che come loro stessi hanno detto l'Unione Europea se fosse continuata avrebbe potuto generare una ricaduta economica molto positiva nel corso degli anni e soprattutto duratura. Purtroppo questo governo non era dello stesso avviso e ha preferito rovinare decine e centinaia di famiglie e aziende. La Lega non ha partecipato alla votazione di un provvedimento che riteniamo un pannicello caldo e alquanto confuso. Noi abbiamo fatto delle domande molto puntuali per quanto riguarda questa proposta di legge. Abbiamo chiesto quali saranno le società partecipate della regione toscana che potranno acquistare i crediti. Concretamente non c'è stata data risposta se non è veramente molto confusa. Inoltre abbiamo chiesto se il fondo a garanzia del 20% sia sufficiente per garantire la regione toscana. Inoltre parliamo veramente di poco, di 5 milioni di euro, quindi veramente un pannicello caldo. E inoltre tengo a leggere proprio la scheda finanziaria la quale dice che la possibilità, la proposta di legge si sostanzia nella possibilità per gli enti pubblici, economici e regionali per le società partecipate della regione, che torna a ripetere, non c'è stato risposto, quali che siano, non inserite nelle amministrazioni pubbliche nell'elenco aggiornato ogni anno dall'Istat e di acquistare crediti fiscali dalle banche e quindi non dalle aziende, non dai cittadini, dalle banche. Quindi 5 milioni per le banche. In questo si concreta questo provvedimento che sicuramente può andare incontro a un'esigenza che esiste, che è quella appunto dell'acquisto dei crediti e diritti, ma che non dà soddisfazione e che rimane davvero ben poca cosa. Italia Viva non ha partecipato a questa votazione. Teniamo assurdo il fatto che con risorse regionali si debbono andare a garantire dei crediti che non sono stati in grado di essere riscossi. Noi siamo per un mercato libero dove le imprese si assumono la responsabilità, in primis quelle di natura finanziaria e non è corretto far rischiare sulle finanze della Regione la riscossione di crediti in evasi, ancor più su misure di bonus che abbiamo sempre ritenuto inopportuni da parte dei governi, in particolar modo di quella dei 5 Stelle che hanno voluto introdurre delle normative assurde nel nostro Paese, se pensiamo al 110 e ad alcuni bonus che sono stati introdotti nel sistema economico della nostra Regione. Molto rischioso per le finanze della Regione Toscana assumersi questa responsabilità e come tale non abbiamo partecipato a questa votazione e quando abbiamo visto che si tratta di una funzione, di una visione totalmente assistenzialista dove abbiamo visto varie forze politiche e trovare invece una sintesi trasversale, la nostra concezione riformista e liberale ci ha portato a essere liberi di non partecipare a questa votazione. Abbiamo affrontato in Consiglio regionale i crediti del super bonus da poter rivendere agli enti partecipati. Io sono stato l'unico che ho votato astensione perché pur essendo è stato fatto un'azione di sollecito alla questione è stata abbastanza limata ogni parola però a me non mi convince, non mi convince perché questo super bonus è stato veramente un pozzo nel quale è sprofondata l'Italia e conseguentemente credo che sia una cosa che pagheremo anche con le generazioni future. Per cui purtroppo ci sono stati tanti magheggi, tante cose che non sono andate al buon fine, tanta gente se ne è approfittata e quindi io credo che la mia astensione voglia rappresentare un qualche cosa che non è stato sviscerato fino in fondo. Voto unanime dell'Aula che approva la nuova legge di iniziativa consigliare in materia di soccorso alpino e speleologico. L'atto individua le attività per le quali la Regione si avvale del soccorso alpino e speleologico toscano al quale viene attribuito un ruolo centrale per le attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e zone impervie del territorio regionale. All'unanimità è stata approvata la legge che disciplina il soccorso alpino e speleologico della Regione Toscana e riconosce il ruolo fondamentale e istituzionalizza il ruolo del soccorso alpino che è importantissimo, che è importantissimo in questo particolare momento dove la montagna diventa sempre più una montagna frequentata da turisti anche dopo la drammatica vicenda della pandemia per una ricerca di un rapporto diciamo diverso con la natura e con l'ambiente e impegna ancora più gli uomini e le donne di soccorso alpino. Sono sempre di più i turisti che decidono di andare in montagna in estate a camminare, in bicicletta, a passeggiare anche con le famiglie ma anche in inverno sono sempre di più e io dico per fortuna i turisti che decidono di andare in montagna anche in maniera differente da quella classica sull'impianto di risalita, tantissimi quelli che praticano lo sci alpinismo, decine di migliaia in Toscana le persone che ogni fine settimana vanno a giro con le ciaspole. Quindi è giusto che la Regione Toscana intervenga per legge come oggi abbiamo fatto per regolare appunto il soccorso alpino. Intanto ringraziando le tante donne, tanti uomini con una capacità incredibile, con una preparazione oltre la media che sono a disposizione appunto di chi va a giro per la montagna. Approvata all'unanimità la nuova legge sui requisiti igienici e sanitari delle piscine a uso natatorio, una norma che rispettando i parametri di garanzia punta alla salvaguardia della risorsa idrica. Sì, la norma ha un ambito di applicazione specifico, è quello delle piscine, degli agriturismi, campeggi e strutture simili che sono ad uso pubblico ma riservato ai soggetti che sono alloggiati. Per questa categoria di piscine era possibile secondo la normativa nazionale prevedere da parte della Regione una normativa attuativa particolare e noi lo abbiamo fatto prevedendo appunto che possano essere svuotate non ogni anno ma ogni tre anni quando ricorrono alcune condizioni e cioè vi sia nei processi di autocontrollo la garanzia della permanenza dei parametri e siano adottate ulteriori misure di salvaguardia della qualità dell'acqua della piscina che verranno dettagliate in un regolamento che la Giunta deve approvare, dice la legge, entro 15 giorni dalla pubblicazione e che nella sostanza saranno meccanismi di pulizia al fondo della piscina, meccanismi di chiusura invernale superficiale della piscina, forme di pulizia dei bordi che spesso i gestori di queste strutture già fanno ma che se fatti in maniera sistematizzata con il controllo della qualità dell'acqua possano permettere in piena sicurezza per la qualità igienica e quindi per la salute dei bagnanti di avere comunque un risparmio idrico importante perché svuotare una piscina vuol dire tantissimi litri e litri di acqua che vengono sprecati e così vengono invece riempiegati e anche un minor costo per gli esercenti delle strutture stesse. Siamo in un momento in cui le stati procurano siccità così importanti da impedire un uso diciamo un dispendio importante di acqua quindi questa nuova norma, questo cambiamento di questa legge permette a tutta una serie di attività importanti come i campeggi, come gli agriturismi di non cambiare l'acqua annualmente ma triennalmente mantenendo però uno standard altissimo di controllo delle acque per garantire voglio dire che le acque non possano diffondire in alcun modo patologie o malattie quindi da una parte si permette di non cambiare l'acqua annualmente ma di farlo obbligatorialmente triennalmente tra l'altra parte però si innalza lo standard del controllo delle acque e si va incontro a due necessità che sono fondamentali ma in realtà questo non riguarda soltanto le attività pubbliche riguarda anche i privati perché in Toscana sono tantissimi soprattutto nelle campagne gli immobili così ampi da essere divisi in più appartamenti che hanno piscina comune. Questo vuol dire che se solo un appartamento tutti gli abitanti del complesso erano costretti a sostenere la spesa del cambiamento dell'acqua che è una spesa importante perché una piscina che tale si voglia definire necessita di almeno 7, 8, 9 autobotti e ha un costo non indifferente quindi con questa legge siamo andati incontro alle problematiche dell'acqua e della siccità, siamo andati incontro alla sicurezza sanitaria accrescendo nei controlli e allo stesso tempo abbiamo messo in condizione anche tanti cittadini che non facevano mercato della piscina natatoria ma che era uso privato condivisa magari con un solo appartamento che invece era messo a BNP di avere un notevole risparmio e quindi insomma poter dedicare quelle risorse alla propria famiglia. Per quanto riguarda la proposta di legge sulle piscine credo che sia una questione di buon senso cioè con un'autocertificazione che in qualche modo rispetta però determinati parametri si può evitare di riempire le piscine e svuotare e riempire le piscine ogni anno ma farlo ogni tre anni. Questo comporta un consumo di acqua molto inferiore a quello che invece comporterebbe ogni anno e tutto sommato si rispettano quei parametri di igienicità e di salubrità che sono necessari per poter portare avanti un discorso di sicurezza igienica. Quindi benvenga una proposta di legge di questo genere.